è finalmente disponibile marvel superheroes disney infinity 2 con il carico di personaggi marvel è finalmente pronto a sbarcare su next gen il gioco riprende le dinamiche del capitolo precedente ampliandole però con i poteri dei nuovi personaggi marvel alcuni dei quali in grado anche di volare un titolo da non perdere e non solo per i più piccoli disney infinity 2 marvel superheroes è il secondo episodio di un franchise di indiscutibile successo il precedente capitolo apre le porte ad universi paralleli ovvero a quelli targati marvel e in futuro a quelli di star wars marvel superheroes riprende le dinamiche del predecessore e aggiunge altri poteri con novità dal punto di vista della prospettiva e della verticalità l'area di gioco è sensibilmente più vasta con numerose missioni secondarie da affrontare che danno un senso compiuto alla definizione free roaming migliorati anche longevità e combattimenti decisamente più vari e gratificanti la nuova scatola dei giochi è più accessibile di facile utilizzo per sfogare la propria verve creativa potenziati connettori logici interessante l'introduzione di mini avventure attraverso nuovi gettoni da utilizzare proprio nella scatola dei giochi la compatibilità con i precedenti personaggi è garantita naturalmente entro i confini della scatola mentre dal punto di vista tecnico i miglioramenti sono sensibili soprattutto su next gen le novità riguardano anche la scatola dei giochi ora più ricca di opzioni e più sfruttabile tecnicamente poi sfrutta bene la maggior potenza di xbox one e ps4 e nuovi set usciranno anche nel corso dei prossimi mesi così come nuovi personaggi inizia dunque ufficialmente una nuova era del collezionismo marvel super heroes disney infinity 2 è disponibile per console e pc e 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